La seconda? Perché la seconda? Perché fai il corso? Perché fai il tandem? Qua dietro? Vabbè comunque buongiorno. Simone, il tuo video. Benvenuto in BFU. Vabbè allora sappiamo già cosa stai andando a fare, ma perché di nuovo? Come mai di nuovo il secondo giro di giostra? Ah beh perché mi piace insomma. Fanno con lui. Invece per la cautela? Ah vedi, fai il corso. Fai il corso e via. Sempre quella, carichi tu un aereo e ti butti giù. Esatto. Me lo fai un bel sorriso quando siamo là su. Allora ci vediamo su. Fai il corso. Fai il corso. Fai il corso. Wow, 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 wow! Vabbè! È assolutivo, è assolutivo! Fai il corso! Vabbè! Qu'è il corso? Vabbè! Weiss! everyparese! è venuto a bordo è venuto a bordo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.